Io ho appartenuto ad una famiglia di matrimonio misto. Mio padre era ebreo, non praticante, vecchio socialista, che aveva conosciuto Lenin e Mussolini in una missione nel 1904 in Svizzera. Ho documentato questa esperienza importante sull'incontro e poi abbiamo raccolto quelle lettere e telegrammi che Mussolini dalla Rosanna mandava a mio padre come rappresentante di un circolo universitario pacifista che si proponeva uno sbarco di volontari in Crimea e Lenin rispose per carità, i primi ad ammazzarli sarebbero proprio i contadini. Perciò per aiutare la rivoluzione occorre che ci aiutiate ospitando le kursiski, cioè le studentesse che venivano perseguitate dallo zar. E così accadde che un certo numero di studentesse russe, anti-zariste, venivano a Torino, uno di essi sposò un giovane editore e fondavano la casa editrice Slavia, che pubblicò la traduzione italiana dei capolavori russi. Ecco, e poi Lenin mandava a Torino delle coppie, datelo scritto, del giornaletto Iskra, che vuol dire Scintilla. Mio padre e gli altri amici in una busta rispedivano dall'Italia, queste buste a varie località, a varie personalità della Russia per smuovere l'opinione pubblica. Insomma, il contributo di mio padre è stato, così, per quanto possibile, assai interessante. Poi io sull'incontro, in tre puntate, ho raccontato questi incontri di mio padre con Lenin e poi con Mussolini, che era allora uno sfregatato rivoluzionario, antimilitarista, che spedì a mio padre, e sappiamo le ho ricevute, per esempio, un baglia di lire 2,50 dalla propaganda pacifista antimilitarista. E nella motivazione di questo piccolo contributo, però piccolo non era tanto, 2,50 allora, era già un pasto, e diceva, il mio fucile non tradirà mai la causa della rivoluzione socialista. Mussolini, che poi naturalmente cambiò, insomma. Tutti questi vicendi di mio padre, che mi aveva raccontato, influivano un po' sulla mia formazione, anche se mio padre, siccome era un po' vigilato dalla questura, quando arrivava Mussolini a Torino, veniva controllato, e poi, il giorno dopo la dichiarazione di guerra nel 1940, fu mandato a confino, a Rocca di Mezzo, vicino tra l'Aquila e Avezzano. Io che mi sono laureato proprio in quei giorni lì, ottenendo il plauso di Einaudi Solari, perché avevo fatto una bella tesi di laurea su Benjamin Constant, che era un scrittore franco svizzero, fondatore del liberalismo francese e universale. Per cui fui elogiato perché, in un certo senso, mentre si dichiarava guerra alla Francia, io ne facevo gli elogi sul piano culturale. E io poi raggiunsi mio padre al confine dell'agosto, e lì, in questo bellissimo paese, c'è un gruppo di internati, la Grisburg, il mio cugino Alberto Levi, e loro, poverazzi, passavano la giornata lì, a leggere i giornali, a giocare a bocce, in attesa degli sviluppi della guerra. Quindi io, fin da allora, e anche prima, anche prima, durante il liceo, io ero orientato contro il fascismo, perché lo ritenevo, da una parte, inammessibile per la violenza, che permeava, per il divieto di opporre delle ragioni, e poi per la stupidità, per la sua ignoranza storica. Io pensavo a Giulio Cesare, di cui Mussolini faceva erigere delle statue, dimenticando che Giulio Cesare fu ucciso perché voleva creare la dittatura, come poi finì Mussolini. e poi la stupidità del regime. Ricordo tantissimi episodi, per esempio una volta, ero qui in Torino, transitavo in quello che, adesso non so, mi parla di corso Rosselli, allora si chiamava corso Parigi, insomma in un corso, diluiava, e io mi rifugiai sotto un portone, a un certo punto, vedi sotto la pioggia, che scrosciava violentissime, due donne, coi bambini in braccio, e io dissi, signore, no, siamo fascisti, non abbiamo paura della pioggia, e continuavano a prendersi, la pioggia, in nome del fascismo. Potrei citare centinaia di episodi, di una stupidità incommensurabile, e poi il fatto mi dava fastidio, che specialmente poi quando ci fu la campagna razzista, che il piccolo re, sciaboletta, avallò con la sua firma, allora io scrissi, e fu due o tre in Italia solo, nell'indifferenza generale, scrissi su una rivistina che si chiamava L'Igiene e la Vita, diretta da un ex deputato socialista, che si chiamava Giulio Casalini, che fu vice sindaco, fu oggetto di uno scandalo edilizio, su questa rivista L'Igiene e la Vita, che conservo, scrisse un lunghissimo articolo, in cui dicevo che non esiste la razza italiana, e documentavo tanti aspetti di questa assordità, il risultato fu che appena pubblicato, la rivista venne soppressa dal fascismo, Casalini ricevette un telegramma dal prefetto, che diceva che la rivista non esca più, e non è più uscita, e la seconda cosa che mi notai, fu un sonetto di Trilussa, non so se lo conosci, è il gatto, avevo un gatto e lo chiamavo io, perché allora c'era la consuetudine, consuetudine insomma qualcuno, che cambiando nome, si cambiasse un po' la, diciamo la persecuzione silenziosa, invisibile ma percepibile, proprio soggettivamente, di tanti che erano suggestionati da regime, e poi rimase colpito dal suicidio del famoso editore Formiggini, che è un grandissimo editore, che ha rivoluzionato la figura dell'edizione, con piccole biografie, dito illustre, di tanti personaggi, un grande personaggio, insomma si è buttato dalla torre, la ghirlandina di Modena, suicidandosi, in segno di potesta, cosa che io non avevo mai tantamente fatto, perché bisognava combattere il fascismo, e non suicidarsi, come ha fatto il fratello di mio zio, erano tre fratelli, uno si chiamava Roberto, che era l'unico molto importante, perché è un grande banchiere, che si trasferì negli Stati Uniti, e si salvò lui, la moglie e la figlia, e poi tornò a Torino, e finì tragicamente, precipitando all'interno dell'ascensore, incredibile. Il secondo fratello si chiamava Arturo, noto Torino come poeta, ma anche come iettatore, perché vestiva sempre di nero, con tutto nero, con il baffetto nero, la barbetta nera, ed era un fanatico fascista, al punto che durante la Repubblica Sociale scrisse Mussolini chiedendo la testa del partito, che è antisemita. Un giorno si fermò in piazza San Carlo, convinto di essere intoccabile, fu subito catturato e morì ad Auschwitz. Il terzo fratello, di cui non mi ricordo il nome, con una pistola si uccise, si suicidò all'inizio della campagna, come tanti, un certo numero di ebrei si suicidarono, cosa ridicola, perché è una protesta contro se stessi, mica contro il regime, ma ben contento uno di meno, che poi la campagna razziale era sostanzialmente in contraddizione con il passato fascista. Lei non so se si ricorda, un famoso giornalista tedesco, Emil Lundwig, nel 1934, intervistò Mussolini e fece un libro, Colloqui con Mussolini, e parlando della questione ebraica, Mussolini dice, non sono mai antisemita, gli ebrei hanno dato un grande contributo, da Natan a Sonnino, al governo dell'Italia, insomma ha fatto un elogio degli ebrei italiani che hanno assimilato, gli ebrei italiani sono quelli più integrati degli ebrei di tutto il mondo, non sanno l'ebraico, le sinagoghe sono sempre state semivuote, pochissimi, o no, sono intimamente religiosi, gli ebrei di allora a Torino prima della campagna erano circa 3.000 iscritti, adesso sono 700-800, siamo in via di estinzione, e poi di questi 800 ce ne sarà il 10% che frequenta le istituzioni. alcuni come per esempio Carlo dei Benedetti non abbiamo anche iscritto, e così via. Dunque, tornando al discorso, su questo punto dichiaro che sono sempre stato fino a ragazzo contrario al fascismo, alla ridicolagine, di dire Mussolini ha sempre ragione, di ascoltare le menzogne, le dico un esempio, nel 1935 quando ci fu un'impresa in Etiopia, la professoressa di chimica a Santa Comi faceva propaganda, e un giorno che una nave italiana affondò nel Mar Rosso mentre portava le armi in Etiopia, gli inglesi hanno fondato il nostro piroscafo, io avevo 16 anni, leggevo, andavo a comprare, leggevo Le Petit Parisien, l'unico giornale di destra francese che veniva venduto a Torino, e io lo compravo per sentire un po' l'alta campana. avevo letto che c'era stato questo incidente di autocombustione durante il viaggio, e allora scusi professoressa, ma guardi che pare che non sia come dice lei, che gli inglesi non l'hanno affatto fondato, è autofondato per un accidente, come lei? Dice delle cose? Esca! e insomma mi ha fatto una scenata e mi ha cacciato via dalla scuola, perché avevo detto nel fondo il mio pensiero. E così tante volte notavo l'assurdità della propaganda. Per fortuna ebbi come professore di storia un ex combattente, un certo professor Piero Operti, che aveva perso la gamba nella Prima Guerra Mondiale, questo qui era un antifascista convintissimo in classe quando aveva la circolare del proprio editorato che diceva commentate l'ultimo discorso del duce, allora lui lo commentava ma insomma tanto fece che poi qualche spia lo denunciò e dopo un anno o due lo cacciarono lontano da Torino all'Aquila lo trasferirono e noi ci avevamo fotografati avevamo in dodici le classi nel tempo di guerra erano ridotte a pochi studenti facemmo un numero unico una fotografia e gliela regalammo e nel numero unico scrivemmo al professor Piero Operti Longanime e sincero che rispettarsi fa dal liceo intero ricordo ancora questa quartina e a me avevano dedicato un'altra quartina Bruno Segre ragazzo che fa fino specie di festa quando c'è il cannino perché giravo con un bastone come usavo allora ecco le ragioni del mio antifascismo spontaneo sempre presente insomma così quante volte all'università tornando a casa da via Po a via Sacchi dove abitava Emanuele e Artem facevamo la strada insieme poi io proseguivo andavo a casa via Michelangelo e con Emanuele e Artem ci scambiavamo tante opinioni discorsi sorrisi e diciamo entrando un po' nel nostro tema della obiezione il tema dell'obiezione come avviene diciamo il passaggio per cui dalla dalla resistenza lei diventa il primo avvocato del dunque io alla resistenza partecipai subito all'inizio del settembre perché eravamo sfollati a Castelletto Busca che è un piccolo borgo al centro di un triangolo Busca Dronero e Caraglio e in mezzo c'era questa piccola località dove transitava una ferrovia che Giolitti aveva fatto costruire pochi chilometri da Cuneo a Dronero che era la sua patria e lì partecipai alla così allo spettacolo terribile indecoroso vergognoso dello scioglimento della quarta armata cioè una armata intera intatta con i cannoni i cavalli tutti si sciolse fuggendo dalla Francia dopo l'8 settembre disperdendosi naturalmente invasero anche la nostra zona uno spettacolo incredibile i cavalli abbandonati e le armi distribuite così buttate molti le presero anche io le preso nelle nascose e poi le come dire quintali di olio di carne in scatola tutto distrutto abbandonato e tutti questi soldati ufficiali cercavano di raggiungere le loro case e venivano da noi civili per chiedere un abito civile da sostituire la divisa perché i tedeschi bloccavano i treni e catturavano tutti questi ex militari per mandare in Germania io ricordo appunto uno di questi che mi diede la pistola una meretta e poi il cagnolino che io chiamavo il Negretto era una mascotte e poi intanto i tedeschi occupavano Boves e sentivano il cannone che sparavano e i soldati in tutti i modi cercavano di tornare alle loro case ma quelli meridionali non potevano farlo perché c'era la linea Gustav che divideva l'Italia la linea tedesca che divideva l'Italia in due parti e non potevano andare all'altra parte allora decine di questi poverazzi andavano su Valmaira e si accampavano lì e io e mio fratello così verso la metà di settembre li raggiungemmo e stavamo lì però la vita era così si mangiava latte formaggio così dormeva sulla paglia insomma una vitaccia allora la resistenza nacque più a Paralup in provincia di Cuneo c'era un gruppetto di ex di come dire di ex fascisti perché Giorgio Bocca era fascista del Guff Giorgio Bocca e tanti altri e quanto Galimberti era figlio di un padre che era senatore fascista Galimberti e allora Galimberti e questo gruppo formavano la banda Italia Libera fu la prima di resistenti convinti tra vari mesi nacquero dei gruppetti qua e là di combattenti cominciavano a crearsi delle formazioni ma vera esplosione della resistenza nacque nel 44 quando incautamente Graziani e Mussolini fece la leva delle classi 24 25 allora tutti gli italiani i giovani italiani di fronte all'ipotesi di iscriversi alla leva e di formare un esercito al servizio dei tedeschi preferirono andare a montagna quindi nella prima del 44 in occasione di questi due bandi di coscrizione obbligatoria si sviluppò il corpo volontario della libertà che Roma dove c'era già il governo dopo il 4 giugno era stata liberata Roma consacrò come corpo volontario della libertà e allora dappertutto nacque delle formazioni organizzate collegate con i lanci degli apparecchi angloamericani che lanciavano di notte il soccorso con missioni alleate insomma un esercito vero e proprio che combatteva fascisti e tedeschi ecco nel dopoguerra lei è subito attivo anche sulla stampa fonda un giornale prima che prende il nome di fraternità nel 1949 e poi diventa l'incontro come avviene la nascita di dunque le spiego eravamo i tempi della guerra fredda dall'inizio della guerra fredda si scatenavano due imperialismi quello americano che sotto forma di piano Marshall e di altre iniziative con l'alleanza della chiesa che ha giocato un forte ruolo con Pio XII intendeva a tenere nella sua sfera l'Europa dall'altra parte c'erano i comunisti con Stalin che dominava quando c'era qualcosa che la mandava i comunisti ad Avenì Baffone perché Stalin aveva i baffi ad Avenì Baffone un moto che risuovava spesso nelle strade di Torino e poi insomma si lineavano due blocchi quello comunista e quello democristiano che vide sempre la prevalenza dei democristiani perché si appoggiavano alle parrocchie in cabina Dio ti vede non ti vede Stalin insomma ma tutti più o meno i felici però ottenemmo una volta che nelle aule scolastiche dove c'erano i seggi elettorali venisse tolto il crocifisso a Torino Montagnana fu lui il pugnatore di questo sostenendo che la visione della croce del crocifisso che era l'emblema della democrazia cristiana potesse influire sugli elettori allora in questo clima di contraposizione tra DC e PC fra l'imperialismo americano e l'imperialismo colonialista dei comunisti ecco io pensai che ci dovesse essere spazio per coloro che pur essendo progressisti socialisti di GL di altri repubblicani potesse scrivere un blocco a sua volta e scrissi prima partecipai a una formazione che si chiamava unione contro l'intolleranza e il razzismo in cui c'erano cristiani ebrei protestanti così però non si concludeva niente anzi poi rimasi così disgustato dalla mancanza di riconoscenza per il tempo che dedicavo che decisi di fare un giornale mio insomma che rispondesse a queste risonanze politiche e fondai così l'incontro prima in formato Tom Lloyd e nel 49 in formato no nel 51 poi con la testata rossa e poi per 70 anni uscì regolarmente e tra l'altro l'incontro fu una delle voci più importanti in Italia sull'obiezione di coscienza dunque l'obiezione di coscienza io la conobbi attraverso Capitini ero andato a Roma per un convegno pacifista conobbi Aldo Capitini che era un tipo un eretico diciamo direi perché era intimamente molto religioso ma di una religione che aborriva il cattolicismo al punto che un giorno e ci metti una no pubblicarono un articolo su un giornale clericale e diceva come mai l'incontro che si atteggia a giornali di apertura pubblica ospita la collaborazione di un rinnegato come Capitini e si poteva ogni altro da cattolici dai più intransigenti e Capitini allora si è innamorato della missione di coscienza e mi presentò poi vari personaggi c'era un professore di Milano che era stato all'inizio allievo con più dodicesimo quando erano semplici seminaristi il professor Pioli pacifista diventato mormone e un fanatico sostenitore perché conosceva bene l'inglese della consenso sovietico poi conosceva vari personaggi nell'ambiente di Capitini così un bel giorno Capitini mi disse guarda ho ricevuto una lettera di un certo Pietro Pinna che è stato arrestato a Torino vuoi occuparti di difendere penalmente io accettai perché le motivazioni adotte da Pietro Pinna nella sua pubblica declarazione erano laiche non erano il solito confesione professionalista ligio i donbi eccetera era un uomo giovane aperto andai a trovarlo in carcere che allora era il Corso Massimo d'Azeglio dove adesso c'è l'Alfieri angolo Corso Dante andai a trovarlo in carcere e così poi il 31 agosto del 49 del 49 no il 31 agosto 49 ci fu questo processo preceduto da un certo battage giornalistico veniva degli giornalisti persino da Stoccolma perché l'obiettoria di coscienza all'estero era molto diffusa molto apprezzata in Italia è una novità assoluta per cui la civiltà cattolica la famosa rivista leader dell'ideologia cattolica la civiltà cattolica aveva preso posizione contro l'obiezione di coscienza dicendo che era una forma criptica del comunismo che voleva sovvertire delle posizioni assurde che poi cambiavano totalmente e il processo ebbe una insonanza enorme venne da Ferrara che era la città dove c'era la famiglia di Pinna questo avvocato Buda un uomone che però non sapeva nulla della mia coscienza e in fondo il vero difensore fu io io citare come testimone Marcucci che era professore antifascista pacifista vegetariano tipo simpaticissima corpulento studioso e poi città e Calosso che come entusiasmo intervenne dando una lezione al tribunale ripeto stati reggiando sono venuto qui per insegnarvi a non perdere la terza guerra mondiale allora i deputati senatori godevano di una stima enorme e quindi non insorsero le ironie di Calosso che aggiunse il generale se bastassi aprire il codice leggere l'articolo e applicare la pena che c'è scritta non occorre un generale basterebbe un caporale insomma tutte queste battute il PM è un certo cavalcasselle allora mi dice ma scusi queste selle è uno pieno e uno vuoto insomma giochi di parole battute una cosa divertentissima quel processo che si conclude in modo molto lenitivo perché mi pare un anno con la condizionale c'è da dire che prima di questo processo pubblico c'era stato nel silenzio assoluto un procedimento contro due testimoni di Gio Ceroni e Castiello che furono amnistiati subito per evitare lo scandalo che le fine delle forze armate c'è meglio Taccè infatti lo sappia a distanza di tempo che c'era stato questo precedente mezzo precedente perché l'amnistia aveva coprato tutto quindi il vero primo obiettore di coscienza d'Italia pubblicamente processato fu Pietro Pinna di cui poi seguì le orbe andammo a Parigi insieme poi a Londra andai con Capitini al Congresso Mondiale delle Religioni in cui c'erano uno spettacolo pittoresco i rappresentanti di tutte le religioni del mondo meno quella cattolica perché il più dodicesimo aveva detto la nostra religione è unica la migliore di tutti non possiamo allinearci alle altre così c'erano rabbini pastori mormoni ignani cinesi una fauna veramente da museo e non c'erano i cattolici e Capitini sorrideva soddisfatto di questo congresso che poi e poi mi dedicai anche ai cittadini del mondo perché c'era stato in quegli anni un episodio singolare un aviatore americano militare un certo Gary Davis era andato all'ambasciata americana di Parigi per rinunciare alla propria nazionalità dicendo io come aviatore sorvolo la terra e non vedo nessuna distinzione tra le montagne italiane francesi svizie tra il verde di un paese e il verde di un altro paese la terra è unica siamo cittadini del mondo e allora con questa nomea fondò questo movimento che poi durò per molti anni ramificandosi a Torino in tante città facendo uscire dei giornali giornaletti eccetera e poi Gary Davis si pentì tornò così a riprendere la cittadinanza però aveva buttato un semi per cui addirittura nel 1951 andammo a Ginevra dove ci fu la prima assemblea mondiale dei cittadini del mondo da tutti i paesi affluivano lì a Ginevra questi autori della confederazione per la formazione del governo mondiale e ricordo che in Italia questo movimento ebbe un deputato un certo Damiani pensi uno e poi si diceva è più facile fare il governo unico mondiale che fare un governo europeo eravamo giunti a questo punto poi con i passati degli anni io sull'incontro in quarta pagina ho intitolato tribuna pacifista cittadini del mondo e davo sempre notizie poi un bel giorno venne di Marchand a Parigi a casa mia discutemmo e capì che sebbene a Parigi ci fossero gli uffici era un movimento politicamente esaurito ho conservato la fotografia visto sul libro c'è la tessera dei cittadini del mondo il processo Pinna si tenne non in via Verdi vero in corso Montevecchio si il tribunale militare aveva sedi in una palazzina a due piani pian terreno c'era questa grande aula del tribunale e sopra c'era dalla parte degli uffici del tribunale e dall'altra parte la procura militare c'era un certo generale Bacis un ex criminale di guerra che era stato in Jugoslavia facendo fuggire a destra e a sinistra lo diavolo lì a piccolo torvo che una volta che c'era un processo tribunale militare io che collaboravo alla stampa per i processi così del tribunale militare andai lì e lui non voleva lasciarmi entrare perché è un processo a porte chiuse e io ho dissi scusi io ho diritto come avvocato ma lei è giornalista non importa io come sono entrato era un processo ridicolo di sfionaggio che si concluse in modo altrettanto comico dove questo Bacis mi stava veramente così odioso e antipatico perché era proprio un militarista che viveva per la divisa e poi mi ricordo che la figlia che era al comune di Torino come insieme a mio cognato che mio cognato era medico l'ufficio di igiene lei era lì e quando si sposò mandò una circolare a tutti gli amici con l'elenco dei regali che pretendeva pensi un po' mai visto una cosa così tutti i colleghi sapevano che dovevano dare questo 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 tali spater tali figlia e così insomma fu una giornata veramente eccezionale quella del 31 agosto che aveva poi quell'appendice perché un certo pacifista con la marbetta bianca che si autodefiniva l'uomo dei tre P pane pace previdenza aveva diffusi i volantini non so se redati da Cerventi non lo so ma questi volantini non avevano l'indicazione della tipografia e perciò furono denunciati e rinviati al giudizio in pretura per violazione della legge sulla stampa e io andai a difendere questo uomo dei tre P poi lei fu anche protagonista del primo convegno della World Resisters International che si tenne a Torino ho visto la fotografia venne da Torino all'albergo SITEA all'albergo SITEA sì sì c'era Calosso c'era il professor Pioli c'era Miss Beaton che è venuta da Londra apposta come segretario della World Resisters International poi andavo su Perga fu una giornata intensissima un giorno o due insomma e lì concordammo l'adesione che c'era già stata per la verità che io a Londra ero andato dagli uffici della World Resisters International in rappresentanza appunto degli obiettori di coscienza da quel momento lei di fatto se pinna il primo obiettore lei però è il primo avvocato a difendere obiettori di coscienza e ne avrebbe difesi tantissimi quali sono i processi che ricorda di più? ma quello Rozzini mi pare a Firenze perché allora c'era il tribunale militare una volta molti anni fa il tribunale militare c'era Milano e mi pare a Firenze Bologna poi Milano fu abolito e poi quello di Firenze Bologna che fu per Firenze fu abolito perché c'era la Spezia e lì difesi Gozzini mi pare sì fu un processo delicato perché c'era dei giuristi cattolici non cattolici filo militare insomma che ci davano addosso fu veramente un PM ecco sì sì mi ricordo c'era un PM che ha proprio no non c'era avvocati c'era io e un avvocato di Roma mi pare Roscioni credo so soltanto che c'è un PM come dire informatissimo sul piano giuridico e per smontare le sue asserzioni facendo una fatica durante un corteo militare davanti alla sfilata davanti al generale Marras uscì dai ranghi del corteo e depose il suo fucile ai piedi del generale fu uno scandalo enorme perché era un ufficiale perché era nessuno sapeva che fosse animato da sentimenti antimilitaristi fu uno scandalo nazionale tutti i giornali parlavano era un cattolico questo sono sicurissimo io lo ho difeso con molto impegno perché condividevo al 100% anzi era l'unico che essendo militare fece l'obiezione a un certo punto certi cattolici così di sinistra diciamo coincidevano con i radicali quasi come avendo durante la campagna per il divorzio io fui con fortuna un sostenitore della campagna per il divorzio feci una quantità di comizi di manifestazione di pubblicazioni e un prete mi telefonava dalla sua parrocchia senza dirmi dice qui vengono per raccogliere le firme per le franze non contro il divorzio come dobbiamo comportarci noi che pur essendo cattolici siamo favorevoli allo scioglimento contro i privilegi lì della sacra rota che è una speculazione era un prete rivoluzionario e mi telefonava dandovi tutti i raguali sui cattolici dissidenti e capita talvolta di tutte le formazioni politiche che ci siano dei fenomeni curiosissimi anche nel fascismo c'è stata della gente come l'onorevole Finzi che è stato uno dei fascisti più attivi è morto alle fosse regatine ci sono tanti episodi paradossali di gente che ha cambiato di idea Mussolini per primo è stato un voltafaccia continuo un grande comunicatore un grande oratore però era primo di coscienza fornito di un'ambizione colossale cambiava divisa la spada dell'islam a cavallo con il fiocco bianco con il pennacchio poi alla guida dell'automobile dell'arreoplano una forma di esibizionismo continuo Don Giovanni da Strapazzo ebbe una bella lezione una volta io ero conto delle cose che ho saputo allora vedevamo c'è una giornalista francese si chiamava Magda de Fontange e venne a Roma a intervistare Mussolini siccome una bella donna lui la stese nella stanza accanto sul sofà e la possedette Magda de Fontange tornata in Francia dice una descrizione dei suoi incontri amorosi con Mussolini quale andò su tutte le furie per avere così dell'empito dell'amplesso detto delle cose inopportuni ti darò l'impero noi ci divertivamo perché allora veda durante il fascismo c'è una valvola di sfogo erano le barzellette ci furono centinaia di barzellette di cui alcune le ricordo spesso dei comizi che erano divertentissime queste barzellette inchiodavano il fascismo ciano fare i dacci e tutta la cricca nel ridicolo ecco stavano talvolta il confino la pena del confino questo sistema di sfogo muristico della rabbia contenuta è finito col fascismo l'ultima barzelletta dopo la liberazione ricordo fu quella dedicata a Fonfani la barzelletta dice che Fonfani a terra con un aereo a Roma riduce da un viaggio in Israele e quando scende dall'apparecchio alla testa fasciata e allora gli amici fanno eccellenza ma come vai alla testa fasciata mi hanno circonciso che è una testa di cazzo e questa è l'ultima barzelletta variamente raccontata l'Italia oggi è l'unico paese che in Europa che non possiede un giornale umoristico durante il fascismo prima fino al 26 al tempo delle leggi liberticidici era l'asino il berlo il travaso delle idee e c'erano tanti giornali umoristici e io me li ricordo sfogliavo con un piacere il berlo il berlo giallo cioè la collezione e dopo la liberazione ci fu Don Basilio che era un giornale anticlericale con delle vignette divertentissime che io poi ho utilizzato alcune pubblicandole sull'incontro per esempio c'era una vignetta che non dimenticherò si vede un'automobile di lusso con dentro due cardinali che posono la mano impreziosita un gioiello che luccica e a fianco di questa fuoriserie c'è un nasinello e un poveraccio a piedi con i piedi scalzi e uno dice ma qui uno è il figlio di Dio gli altri sono i servi di Dio cioè quelli in carrozza in automobile sono i servi e io invece il poveraccio che è molto bello io stessi un giorno andando all'ufficio filatelico del Vaticano perché facevo la collezione del fancomole del Vaticano ebbe occasione in piazza San Pietro di vedere uno di questi automobili di lusso che avevano la targa SCV vuol dire Stato Città del Vaticano e un povero prete che era con me ma sa cosa vuol dire SCV così no vuol dire se Cristo vedesse gli è una lezione di spirito aperto veramente apprezzabile parlavamo dei diversi obiettori che li ha difeso e tra questi testimoni di Geova centinaia alcuni proprio mi ricordo una volta non so se a Torino dove che c'era questo giovane testimone di Geova che quando mi vedi dice ecco vede ecco il salvatore che la Bibbia ha previsto perché lei si chiama Bruno perché lei porta insomma aveva identificato il codice del testo biblico il mio nome ha quello di qualche personalità tutte cose nate da una fantasia malata ma io ero talmente convinto assorto con gli occhi splendenti eccetera illuminati che mi commossa veramente guarda la fede giunge al fanatismo questo qui è uno di quelli che in Giappone facevano i cavi e canze perché trasferiva nel suo mondo di illusioni di reminiscenze di studi e quello che era una realtà modesta però ne ha conosciuti tanti di testimoni di Geova che ricordi ha degli obiettori testimoni di Geova come erano? sono giovani alcuni di estrema modesta intellettuale qualcuno invece studioso preparato però tutti contestatori del cattolicesimo perché il cattolicesimo come ha dimostrato la riforma luterana si note di immagini bambole di miracoli di cose incredibili ricordo un episodio storico dunque nel 1500 un papa che ha un papa assisto quinto mi pare aveva saputo che nei dintorni di Roma c'era un convento in cui un grosso crocifisso emanava dal costato un liquore un liquido che la gente pagando beveva in una tazzina e una buffonata un trucco allora il papa si vestì con un saio come un qualunque cittadino e andò là e quando vide questo fatto prese un martello e spaccò e si vide che c'era un tubo e disse papa assisto disse un dì non andrà sempre così quindi la stessa chiesa dalle certe persone illuminate non certi persecutori di Galileo e di Giordano 1 certe persone illuminate riuscivano a temperare certi eccessi e quindi i testimoni di Geova che conducono una vita regolare fedele di moralità eccetera sono dei sul piano umano persone estremamente rispettabili capisce tant'è che adesso sono perseguitati in Russia come fu in Germania dove c'è uno stato severo dittatoriale come in Germania nazista e nella Russia comunista e anche adesso vengono perseguitati i testimoni di Geova vengono allora finivano i campi di concentramento adesso sono condannati a penne detentive modeste ma sono inadmissibili perché ognuno deve avere la libertà come diceva Voltaire io sono contro le tue idee però morirò fino pur di ottenere che siano rispettate io stesso ho come principio che sono contrario a una ideologia però mi batto affinché l'ideologia possa esprimersi liberamente il fondamento della democrazia la coesistenza di idee pacificamente rispettose capisce perciò il testamento di Geova ripeto sono ridicolmente legati a dogmi alla lettura della Bibbia che è un sacco di fantasie di menzoglie e poi io li rispetto anche se tutte le volte che parlo con un testimonio di Geova non cercano neanche di catechizzarlo in senso libertario perché lui giurerebbe che quella è la verità contento lui buonanotte e tra le censure che vi furono tra le censure che vi furono in Italia c'è anche una censura che riguarda un obiettore cinematografico nel 1961 viene impedita la visione di non uccidere di Autant Larat dunque le cose stanno così la Pira la Pira che è il sindaco di Firenze un personaggio straordinario un siciliano mistico invaso da uno spirito così eccezionale sembrava metà Savonarola metà Giordano Bruno con gli occhi spiritati aveva proiettato a Firenze il film di Claudio Tanglarat tu non uccidere e fu denunciato processato eccetera poi amnistiato quando l'ho saputo gli ho telefonato gli ho detto sentimi puoi prestare la pellicola voglio proiettarla a Torino e lui me l'ha mandata e allora la galleria d'arte moderna che aveva quella che c'è adesso quella di prima prima diciamo negli anni 60 61 70 mi pare 60 negli anni 60 insomma allora io andai sul palcoscenico feci una prolusione e poi potrei ritare questo film nessuno disse niente non fui né denunciato niente a Torino era più liberale che a Firenze è un bel film conosce la trama è proprio così assurdità e io pubblicavo una bella vignetta dove si vedevano due giovani detenuti nella stessa cella seduti uno qui e uno lì e uno dice tu perché sei qui perché ho ucciso e tu perché non ho voluto uccidere significativa tra le appunto li abbiamo citati prima però magari se ci lascia un ricordo di Capitini e uno di Calosso nel dunque Capitini lo ricordo in tante occasioni intanto ci scrivevamo perché lui era un buon grafomale scriveva tante di quelle lettere e mi mandava dei ritagli e mi esortava a fare un discorso a partecipare alle marce della pace per oggi assisi con cui litigava con Spano che era comunista che aveva militato tutti i comunisti a far parte del corteo venne con me a Londra a Parigi fino all'ultimo fu un ottimo rapporto con Capitini ci avanza a Torino lì l'amico Polito che raccolse un po' di lettere fa me Capitini vuole fare un libro non so come sia finito perché in fondo Giuseppe Giusti aveva detto un libro fatto valmente niente se il libro fatto non rifà la gente lo scambio di idee fa me Capitini non poteva interessare con la piccolissima minovanza di la minovanza comunque Capitini è stato un personaggio singolare nella cultura italiana aveva scritto dei libri che nessuno leggeva mai sulla compresenza tra morti e vivi che era il suo significato otteneva dai daude la pubblicazione di taloni libri che non avrebbero mai nessun successo rimase male perché quando si è liberato il posto di docente all'università gli fu anteposto Borghi a lui e lui si invasò un po' male mi ricordo Borghi era un ebreo con cui andavano onda eccetera intellettuale e poi povero Capitini morì durante un'operazione chirurgica invece diciamo figure come padre Balducci Don Milani sì Marcucci è un tipo diversissimo da Capitini tranne nella comunanza di autori dell'ambizione di coscienza di ogni forma di pacifismo primo era vegetariano secondo aveva messo su una aiesi aiesi avessò su una biblioteca che poi dopo la morte fu come dire acquisita dal comune che mi incaricò di fare una prefazione al libro di Marcucci che era intitolato le memorie di un pacifista ossia tutti gli articoli che l'incontro nel corso di tanti anni ospitava di Marcucci che faceva una sorta di recensione di tutte le pubblicazioni pacifiste d'Italia tutte le iniziative era una miniera e allora hanno fatto questo bel volume e io ho fatto la prefazione Marcucci il quale mi ricordo mi raccontava che un giorno i fascisti lui è un professore di liceo di storia e filosofia dovete prendere una bicicletta e fuggire nelle campagne perché volevano menarlo a sapere qualcuno aveva fatto la spia come capita sempre come è successo il povero Perti e allora i fascisti lo seguivano Marcucci povero Marcucci era tanto bravo era un tipo un po' ingenuo solitario lo aveva sposato sembrava un timido e si era specializzato nella collezione di tutti i libri su Giulio Verne aveva decine di libri in italiano in francese in tutte le lingue su Giulio Verne e Marcucci era un pacifista veramente dotato fornito di cultura umanistica appassionato con me degli ideali di pace e tolleranza ecco sì sì e Calosso? Calosso è stata la mia passione perché l'avevo sentito da Radio Londra e lo sa a Radio Londra c'erano due tre c'era il colonnello Stevens poi c'era Candido che era un italiano terribile perché quando venne in Italia dopo la liberazione fu espulso dall'Italia pensi lui che aveva combattuto il fascismo Candidus e poi c'era Calosso che aveva fondato il movimento Italia Libera e parlava in forma come sempre un po' umoristica e faceva sorridere gli italiani sotto le bombe poi venne a Torino dopo tante traversie la moglie appena sbarcata a Napoli fu derubata dalla pelliccia insomma venne a Torino e assunse la direzione del giornale Avanti che mi pare avesse cambiato il nome sempre Avanti per distinguere l'edizione torinese da quella nazionale che usciva a Roma o Milano e lui si vantava che da quando aveva assunto la direzione e quindi faceva un corsivo quotidiano spiritosissimo la tiratura aumentò di 30.000 copie tutti leggevano sempre Avanti perché c'era Calosso il quale predicava che le donne debbano avere le iniziative in amore che la messa va celebrata in italiano non in latino che il cocifisso non va appeso perché Cristo si deve tenere nel cuore non sul muro togliete i cocifissi dal muro era spiritosissimo e quindi aveva per me una particolare simpatia e ci vedevamo e avevamo sempre difeso la sua azione politica perché poi a Roma quando era alla Camera aveva sostenuto che Cristo era figlio di un adulterio insomma aveva detto le cose vere ma il conformismo clericale lo odiava e poi da Torino andò via fondò a Torino il quotidiano mondo nuovo a cui io partecipare per un anno fin tanto che visse come redattore di politica estera negli anni 47 48 Calosso lasciò la direzione di mondo nuovo e direse l'umanità a Roma finché durò poi cessò credo che gli ultimi tempi fosse avesse lasciato i socialdemocratici passando i socialisti tant'è che Nenni lo aiutò quando era molto malato in una clinica Calosso Umberto Calosso tipo spiritosissimo quando andavi insieme a lui sentivi sempre delle battute originali come quella al magistrato Durando che lo attaccava sulla voce della giustizia un modesto bollettino attaccava perché Calosso era repubblicano e invece Durando era un clericale con 8 o 10 figli e allora a un certo punto scocciato da tutti questi attacchi gli si fosse signor Durando lei non è un uomo è soltanto un gerugno e così l'altro si beccò questa battuta spiritosa e non poté querelarlo perché è eccepibile per quanto riguarda Pannella ho avuto lunghi rapporti io però Pannella era un uomo di eccezionale ingegno ma di altrettanta eccezionale faziosità poi aveva creato la potesta mediante il digiuno che spesso era simulata perché anche lui la sera in albergo mangiava e beveva insomma quindi era una simulazione io per esempio non avevo mai fatto nessun digiuno eppure non si è abbia combattuto per la misericoscienza e poi lui aveva anche degli aspetti polemici non tanto simpatici delle volte così attaccava tezzo attaccava caio no è un uomo che con la bolino rappresentava un'idea importante dell'idea radicale una volta esisteva prima del fascismo il partito radicale i radicali in francia e in italia contavano prima della prima guerra mondiale i radicali hanno ereditato alcune di quelle idee poi adesso per esempio a Torino ci sono due formazioni radicali una che si chiama associazione radicale Adelaide Aglietta e una di un certo roversi che si chiama partito radicale che non si assolutamente non vogliono incontrarsi in queste forme di avversione io non le capisco perché l'idea è unica invece sono sempre state scissioni cambio di giornali lei è stato anche militante socialista lei ha anche militato nel partito socialista il partito socialista dunque intanto la legge per il divorzio fu fatta sì da fortuna che era socialista ma con la collaborazione di Baslini che era liberale io mi ricordo allora che andammo a Mondovì a cercare l'adesione di un senatore farmacista dico se lui vota per il divorzio siamo poveri per il progetto di legge sul divorzio se no insomma è una specie di pellegrinaggio alla farmacia di questo senatore che è incerto se votare sì ma quante sacrificie abbiamo fatto per il divorzio lei non immagina è stata una battaglia battaglie con l'automobile giravamo la provincia con l'altoparlante sul tetto con la musica di un uomo e una donna e con i motti così gli animali non amano il divorzio gli uomini sì e poi la ballata dalla sacra rotta un mio amico con la chitarra suonava la ballata che c'erano lì che è proprio un po' sbagnetizzata non si sente più perché tanti anni eravamo tutti appassionati per il divorzio una definizione per lei di obiezione di coscienza cioè la sua la definizione in qualche modo che lei darebbe di obiezione di coscienza e quali sono state poi le conseguenze della conquista della legge è stata importantissima perché non è stato un colpo di scena da oggi al domani si è passati in tante fasi progressive prima c'era la concessione del servizio civile subordinata alla valutazione della sincerità della scelta poi bisognava insomma abbiamo fatto decine di processi nel tribunale ordinario per graduare l'adesione al servizio civile insomma il passaggio dal reato al servizio civile è stato un lungo cammino durato anni e centinaia di processi in cui si valutavano tanti elementi adesso non mi ricordo più perché sono passati siamo negli anni 70 80 72 80 più di 40 anni fa questa fase del servizio civile si cominciato nel 72 poi si ma dal 72 in poi non è che da un giorno all'altro si potesse non fare più il militare bisognava fare domande poi la durata del servizio civile so che c'erano tante problematiche da risolvere c'erano i processi al tribunale ordinario tra l'altro con la soppressione del servizio militare obbligatorio figli tutto alcuni reati scomparvero la mancanza alla chiamata la diserzione atti di questo tipo non esistono più perché se uno fa il servizio militare è un volontario non c'è più l'elettro di mancanza alla chiamata non c'è più la chiamata non c'è più no è tutto cambiato l'ambiente poi le donne nel servizio militare io mi ricordo quando il 25 aprile vado a celebrare la ricorrenza alla caserma di Viasti che c'è il d'appello di militare con la fanfara prima che io faccia il discorso e mi ricordo stavamo che c'erano due donne in divisa serie impettite mi faceva un senso vedere queste donne in divisa a fianco degli uomini non sono abituato e se proprio con due parole dovesse definire l'obiezione di coscienza come la definirebbe come una scelta di libertà una scelta di riconoscimento che siamo tutti fratelli che il razzismo non esiste il razzismo deve essere soppresso e l'obiezione di coscienza è una forma di insurrezione contro le ingiustizie del mondo cioè si trasferisce da quello che è il suo concetto militare a quello universale dei rapporti tra gli uomini l'obiezione di coscienza per esempio in America che c'è questa ostilità proprio fondamentale contro i negri anche se adesso la parola negro è abolita ci dici uomini di colore perché ci sono gli asiatici che sono gialli e i palli rossa che sono un po' rossi e allora io interpreto l'obiezione di coscienza come una forma di emancipazione da tutti i razzismi da tutte le disuguaglianze perché l'obiezione di coscienza è sempre viva eterna nell'uomo perché la coscienza si oppone si obietta alle ingiustizie alla scelta della propria indipendenza alla scelta della propria configurazione interpretazione dei rapporti umani per me l'obiezione di coscienza esiste sempre non più il servizio militare ma dei rapporti interumani ecco a conclusione proprio per chiudere abbiamo citato tante persone tante figure c'è qualcuno qualche figura che non abbiamo citato che lei vorrebbe ricordare quattro giovani obiettori di coscienza uno si chiamava Giuliano caleffi un altro si chiamava di cognome Tonda gli altri due non mi ricordo bene i nomi questi quattro obiettori di coscienza fecero ciascuno quattro anni di carcere perché in quattro processi successivi furono condannati cioè appena scontata la pena venivano richiamati alle armi e rinnovavano l'obiezione e questo significò che questi quattro giovani ciascuno scontò in carcere quattro anni la giovinezza più bella fu trascorsa in carcere e così ricordo appunto questa esperienza che mi aveva sempre colpito guarda che idealismo come quelli che affrontavano il fascismo ben sapendo che finivano al confino in carcere oppure addirittura sacrificavano la vita come l'anarchico Schirru che era venuto dall'America con l'intenzione di uccidere Mussolini fu catturato e possessato il tribunale militare il tribunale speciale per la difesa dello Stato ebbene fu condannato a morte per il suo proposito di uccidere ora nessuno può condannare l'intenzione l'intenzione è una cosa vaga sia pure fondata fu una di quelle infamie più ure che carattere come si fa a condannare a una morte perché aveva l'intenzione non ha fatto nessun gesto pratico non è stato un tentativo e così altri un altro che aveva preparato un attentato in cui era rimasto dalla bomba che stava preparando è rimasto mutilato fu condannato a morte e allora qualcuno andò da Mussolini dicendo questo qui come si fa a portarlo al poligono per essere fucilato non si regge in piedi diamogli la grazia no pensate di uccidermi si è fucilato e venne fucilato Mussolini la morte si era evitata venti volte e lo stesso il piccolo re che era un individuo ambizioso avaro geloso della moglie era Curtatone e Montanara salla la battuta Curtatone perché era 1,54 e Montanara perché era una bella donna di cui era geloso e quando andava a tavola tutti dovevano alzarsi in piedi quando entrava si accostava la mensa tutti in piedi e quando cominciava a mangiare gli altri mangiavano la casa Savoia è stato uno schifo perché da Carlo Alberto in esilio Vittorio Emanuele II che lo sa era bruciato nella culla e fu istituito la creatura figlio di Carlo Alberto come il figlio di un macellaio che era Augusto diventò infatti un umore Vittorio Emanuele II con istinti erotici sviluppati e poi Umberto I che venne ucciso da Bresci per vendere Beva Beccaris e infine Vittorio Emanuele III che aveva ridato l'Italia appoggiando Mussolini tradendo l'amicizia è una storia vergognosa quella di Casa Savoia come ci possono essere dei monarchici che non vedono se non ciecamente le vicende storiche che è